Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono rallentamenti in direzione Roma tra incisare Gello e Valdarno, fare inoltre attenzione per un veicolo fermo tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione Roma, sulla FIPILI personale su strada per lavori tra Lavoria e Gello in direzione Firenze, sulla statale Trebis-Tiberina riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Canili e Val Savignone e sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. A Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali ed è cambiato il senso di via Madonna della Tosse nel tratto via Spaventa-Piazza della Libertà. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!